Benvenuti in questa nuova parte di Accusita Heartless Nuovo livello Enoch Andiamo The Blood Ruins Sì, mi ricordo questo livello Non dovrebbe essere abbastanza difficile Prendiamo la prima magia Ragno testo Oh no, vediamo Muori Attiviamo l'osso Per attivare le seppie tre Perfetto Una Due Tre Oh, difficoltà massima No, basta Ti odio Quole Ma Mi 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 E Attiviamo il congegno. Dice già visto. Oh cazzo. Io vado a prenderla. No, era l'altro. Sì, se riscendi. Grazie. Perfetto. Basta, ha rotto. Ha rotto già qui. Vediamo... Si può scendere? Sì. Eccoci qua. Il nostro primo antenato è già quello che ha preso. Eh no. Mamma mia, ancora. Avvicinati, avvicinati. Toglio io al tanto. Ok, ma oggi però devi andare anche a questa parte. Quanto mi rubi i coglioni però. Spostati. Ecco qua. Ho fatto bene aprire il vaso. Perchè se mi piace qualcosa qua? Un cuore. Che genio adesso ho. Sono... Un perfetto genio. Ecco qui. Che mi tocca reiniziare tutto. Oh, che derolo. Mi ricordavo che era semplice, no? Anche i peggiori possono sbagliare. Sì, lo sappiamo. Le pietre. Wow. Wow. Non sono uno spirito giusto. Eh, non sono uno spirito giusto. Eh, bravo. Muori. Eh, sta zitto. Devo prendere un volantanato? Sì. Droga. Uno. È il primo antenato. Oppa. Portami su. Ma abbiamo queste inquadrature. più me ne frego tanto e riaccoci qui incontriamo che non ci siamo in là cioè io devo saltare in quella cosa lì perfetto cosa abbiamo attivato il cancello di sangue che porta al fiume di sangue perfetto questa volta non sono cadute fuori non c'è qualche spiritello qua nessuno checkpoint attivato ma certo si può inferiore la pietra lunga qua c'è qualcos'altro non entro ... ... ... ... ... ... poi diminuiamo le due arde teniamo una vita fatemi tregua non ho più vita non l'ho completamente fottuto mi tocca andare a fare tutto questo pezzo beh, come ci arrivo, guardate ah, meno mare oh, grazie, grazie veramente adesso ho finito anche l'imagine del Soul Seeker sarà ancora più difficile e muori, dai non so se c'è il cuore dentro sì grazie 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 Ancora! Questa sarà bella! Oh! Fottiti! Eccolo! Uno, due e tre! Vai! Da solito ho preso, non ti mollo più! Ok! Ok! Buongiorno! Oh! No! 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 Un altro checkpoint! No! 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 Ali ho ilorido! No! 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 Ecco, dai siamo tutti felici e contenti. Ma è impossibile che ci sia qualcosa, posso trasformare in tigre, queste sono le spazienze della vita, non riuscire a beccare un nemico nell'indimensione Pantera. Siamo andando un po' troppo veloce. E si attiva il ponte. Ciao. Ehm, adesso ci vado. Ehm. 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 No, che brutto, ho preso solo un antenato, vabbè. Uno su tre. E fino al guarda ne richiede 40. Ok. Solo scriviamo. Qual è il prossimo? Il prossimo è? Gehenna. No, Caina. Ok, finisce qui quest'altra parte di Hakuji Delta. Bye bye da Dark Niflu.